Buongiorno dolcezze, allora guardate un po' che scatolina ho qua sotto Perline Bijoux, perché? Perché questa è la scatolina della nuova collaborazione perché sì, ci saranno due nuovi tutorial in collaborazione con Perline Bijoux al momento io però ho preso il materiale solo per un tutorial perché non so ancora precisamente, non ho ancora pensato a entrambi i tutorial ma soltanto a questo, quindi per il momento ho scelto il materiale solo per un tutorial e ve lo faccio vedere subito allora devo dire che siccome l'ultimo tutorial che vi ho fatto che erano gli orecchini orchidea era un tutorial abbastanza elaborato non proprio per principianti ho deciso di ritornare un po' indietro e di rifarvi un tutorial abbastanza semplice un po' più abbordabile per tutti, diciamo così e adesso vi faccio vedere tutto il materiale che c'è qua dentro svuotiamo tutto ok, allora partiamo dalla cosa principale dalla cosa che si vede subito qua che è l'ultra suede nella colorazione classic navy è un blu, so che non si vede poi c'è questa luce del sole che sta tramontando che non è che insomma fa vedere proprio bene i colori eccolo qua vi assicuro però che è un blu notte è un blu scuro poi i protagonisti di questo tutorial saranno questi due rivoli Swarovski Paradise Shine è una colorazione che io non avevo mai preso non avevo mai avuto in mano diciamo così è bellissima, veramente bellissima ha riflessi sul verde, blu, viola e vi dirò assomiglia un po' anche alle ultime colorazioni Swarovski che sono uscite come riflessi belli, belli, belli sono poi altre due cose un po' preziose cioè delle perle Swarovski da 4 mm la colorazione me la sono scritta Iridescent Dark Blue e questo è il codice e sono 20 pezzi eccoli qua così si vede il colore e poi sempre super preziosi in Swarovski vediamo se ecco lì Bicono Swarovski getta B 4 mm i 20 pezzi che questi si abbinano da dio con i rivoli guardate belli, belli, belli poi ho preso una catena di strass con i cristallini blu e la base oro da 50 cm questo è il codice della catena li metto tutti qua almeno li vedete poi una confezione di perline Miyuki matte opac multi iris confezione a 10 grammi 15.0 questo è un colore ragazze meraviglioso meraviglioso non l'avevo mai avuto ed è praticamente matte e questo già mi piace perché ultimamente le perline matte mi piacciono da morire e hanno appunto questa colorazione ecco qua si vedono da dio che varia dal blu al verde all'oro al rame proprio veramente un mix di colori bellissimo bellissimo ne serviranno poche ma da tenere lì per usare per altre creazioni sono meravigliose poi come monachella ho scelto questa sempre anche questa preziosa cubic zirconia oro perché sono le delle monachelline color oro con i cristallini incastonati eccole qua con questa sottile striscetta di cristallini veramente veramente carina praticamente ho intenzione di fare un modello semplice ma molto prezioso con dei materiali insomma come avete visto ho scelto quasi tutti i svaroschi e cose un po' più carine e la piattina ho scelto solo un unico colore faremo un colore unico come mio solito non nel tutorial ma nelle creazioni che faccio di solito io sono abbastanza monocolore ed è il colore è il twilight è una piattina da 2,5 mm della categoria acetato made in italy che è un colore azzurro polvere bellissimo secondo me veramente veramente bello è da 2 mm quindi è un po' più sottile vedete non è molto spessa e non è super rigida però si dovrebbe lavorare bene e non vedo l'ora di provarla con voi ovviamente nel tutorial guardate il colore non so se si vede bene dal video ma mi piace da morire un azzurro grigio polvere bello 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 questo colore è bellissimo ok quindi niente vi ho fatto dare una sbirciatina al kit per il prossimo tutorial che cercherò di farvi a breve e di metterlo sul canale in breve tempo e niente vi saluto vi mando un bacione a presto a presto